Nel rapporto con la pubblicizzazione sono lunghi e guardate che non sono tanto le macchine comunali o le macchine dei singoli enti, è un insieme di normative di modalità di funzionamento a cui si può e si deve mettere mano per affrontare questo, che è un tema molto importante per la qualità della vita delle persone e anche per la competitività delle imprese. Il secondo punto riguarda il rapporto tra la politica, le istituzioni e i ruoli tecnici in alcuni settori chiave. Penso alla sanità, penso al tema delle grandi aziende pubbliche. È vero che non bisogna tornare a un'idea della politica che fa gestione, che sarebbe assolutamente svegliata e macronistica in questa fase, però attenzione, noi secondo me stiamo rischiando di andare un po' nell'eccesso opposto. Dico da uno che ha fatto punti anni, sindaco, ha partecipato a molte riunioni di questo genere, in questi settori, lo dico anche a una persona che pur brevemente per ragioni note ha fatto il consigliere comunale a Polonia. Quanto potere hanno per esempio realmente le nostre istituzioni per indirizzare le politiche sanitarie? Questo è un tema su cui anche con un certo coraggio innovativo bisogna mettere mano. Poi c'è la cia metropolitana, che è questo motivo che condivido con l'intervento di Virginio. Dico che dobbiamo tradurre l'obiettivo in una serie di passi amministrativi concreti per arrivarci. Su questo qualche idea ce l'ho, sono anche temi a cui, quando ero vicepresidente della provincia, ho lavorato. Credo che bisogna avere questa attenzione, che credo sia un errore che abbiamo fatto negli anni passati. Qualcuno me l'ha già sentito dire a suo tempo appunto come ne occupavo. Cioè attenzione a indicare un obiettivo molto ambizioso che crea anche occupazioni, perché è un cambiamento rilevante, e non dire come ci si arriva. Perché se facciamo così non ci si arriva. Bisogna costruire un percorso, preso per esempio a lavoro sugli apparati delle pubbliche amministrazioni. Penso a un lavoro di costruzione sulle unioni e le associazioni di comuni, che indichi come si arriva attraverso tappe chiaramente definite a questo obiettivo che credo questa volta dobbiamo realizzare veramente. Altro punto molto significativo sono le politiche di coesione sociale. Qui sentite cose anche qui che condivido importanti. Io penso che noi dobbiamo tornare a comunicare a Bologna un senso di comunità. E diciamo a dire che le istituzioni hanno bisogno dell'associazionismo, del volontariato, dell'intelligenza di Bologna, dei cittadini per realizzare la crescita di questa comunità. E questo per me è prima di tutto il piano strategico. L'idea per cui intorno alle istituzioni bolognesi si unisce meglio della nostra comunità in progetti condivisi. E che attraverso questa rete, questa cosa straordinaria che è il volontariato, che è la nostra realtà, più di tante altre realtà del Paese. Se riesce a realizzare quel valore giunto, che è appunto in una fase di crisi della finanza pubblica, può consentire di raggiungere risultati altrimenti molto ambiziosi. E poi c'è il tema del rapporto fra il lavoro e l'impresa. Penso anch'io che vado a fare un discordo di fatto sociale tra il lavoro e l'impresa contro la rendita. E però qui bisogna avere anche il coraggio di dire una cosa. Da noi la rendita è prima di tutto rendita immobiliare. E lo è, diciamo, di fronte a tanti soggetti del mondo imprenditoriale, con cui su questo bisogna affrontare una discussione probabilmente anche difficile. Anche nel mondo che tradizionalmente fa riferimento a noi. Ma è una discussione che io credo è affrontata in grande decisione. Le risorse di attenzione sul lavoro e lo sviluppo, sulla piccola e media impresa, sull'impresa operativa che investe e produce. E appunto, no, consumo del territorio. Certo, aree militari, recupero delle aree di svesse. Certo, un grande investimento sull'ecologia come motore di sviluppo. E anche, diciamo, su tutto quel tema molto importante che è la rilificazione ecologica. Pensiamo ai consumi energetici degli uffici esistenti. Poi, il rapporto con l'università. Università, università, università. Ma è questo a Bologna fatto assolutamente fondamentale. Bologna e la sua università hanno una lunghissima storia comune. E Bologna ha una certa identità, una certa idea del mondo. Ha anche una certa apertura nella testa. Che dovremmo ricordare alle persone quando si ragiona dell'accoglienza di noi cittadini che vengono a vivere e lavorare qui, da altre realtà del mondo. Da cui bisogna vedere il rispetto delle regole, la realtà dei diritti e dei doveri. Ma appunto con la testa per. E quindi il rapporto con l'università. E poi investimento sulla scuola, sulla ricerca. Certo, sul merito delle giovani generazioni come occasione di sviluppo. Per fare questo io penso che abbiamo bisogno, prima di tutto, a Bologna, di un governo forte, autorevole, che sa amministrare, che sa fare delle scelte, che sa fare dei cittadini bolognesi, che combatte per il futuro di Bologna. E qui c'è il ruolo del centro-sinistra. Io penso a un PD aperto, che unisce tante culture politiche che l'hanno promosso in una nuova fattura politica per i democratici, che si confronta con la sfida del governo guardando al futuro, e penso a un centro-sinistra, prima di tutto, come nuovo olivo. E se penso a un posto dove l'idea del nuovo olivo si può tradurre nell'azione politica e nell'azione di governo, penso a Bologna. E quindi una politica, certo che va in mezzo alla gente, riscopre il rapporto con la comunità. Non però una politica che si nasconde e si vergogna di stessa. Perché per noi il civismo è una nostra natura cicca. Il fatto di promuovere le migliori identità di Bologna, il fatto di avere anche l'intelligenza di non giudicare la qualità delle persone, guardando se hanno o no la tessera del dì in tasca. Però attenzione, un partito che dà l'idea che si vergogna di stessa dei propri dirigenti, non so poi come può andare a chiedere il voto per le proprie liste a qualunque ambiente elettorale. E quindi questo, un nuovo civismo, ma con la schiedrita di persone che sanno quello che rappresentano e che sono orgogliosi di quello che possono mettere in campo. E quindi un partito aperto alla società, che questa apertura mette a disposizione delle politiche di governo. Adesso parlo della mia disponibilità a candidarmi. Devo dire che mi hanno già candidato in due, quindi arrivo un po' dopo. Ripeto quello che ho detto, nell'unica occasione pubblica in cui ho parlato, in modo più articolato, che ho detto sia Raffaele sia Stefano in colloquio in questi giorni. Prima però voglio dire una cosa. A questa discussione arriviamo dopo l'ischemia che ha colpito Maurizio Cevenini. E anch'io Maurizio voglio mandare un saluto assolutamente affettuoso. Ci sono delle volte dove eventi politici ci toccano anche l'umanità delle persone. Io devo dire che il giorno a questo punto che Maurizio è stato male, insomma, chi mi ha visto ed è il mio amico lo sa perché ci siamo visti, questa mattina con alcuni, ho stato parecchio male anch'io. Perché, insomma, c'era una persona che stava facendo bene un cammino con noi e penso a cosa ha voluto dire sul piano umano per lui la scelta che ha dovuto fare per ragioni di salute. E credo appunto che prima di tutto sia una vicinanza e una solidarietà alla persona, quella che viene da dire. Certo, una richiesta di continuare a impegnarsi con noi. Per quanto riguarda le elezioni primarie, mi pare acquisito nella prossima sera che le elezioni primarie si faranno. Bene. A queste elezioni primarie si può andare sostanzialmente in due modi come Partito Democratico. Io ho fatto molti incontri in questi giorni con persone per sentire opinioni, per pareri. In molti di questi incontri mi è stata, almeno qui devo dire dagli interventi che ho sentito finora, mi è stata sollecitata l'opportunità di arrivare con un candidato condiviso al Partito Democratico alle elezioni primarie. Adesso, se ho un ruolo nazionale, in altre aree del Paese, questo sta accadendo. Per esempio, a Milano, il Partito Democratico ha ufficialmente candidato una persona, come fa secola Frasaroli, per intenderci. Se questo obiettivo si vuole perseguire, chiedo che si ragioni anche del mio nome, fra quelli su cui si apre un confronto politico,